... Ok. Allora, ricapitolando velocemente quello che abbiamo toccato in questi giorni. Siamo partiti esaminando l'esistente anche a livello formale, cioè gli aspetti che condizionano i modelli educativi, come si sono sviluppati e come pensiamo possano essere integrati o migliorati, anche a livello non formale e informale. Abbiamo visto stili di apprendimento, abbiamo visto degli esempi da Sugatamitra, Arvin Gupta, Tim Rollins, abbiamo visto che cos'altro? Abbiamo visto un po' di un accenno sul metodo Montessori e su alcuni principi. Quindi oggi vorrei affrontare subito all'inizio un tema che continua, quanto detto, rispetto al Montessori, ovvero il titolo che vedete Ordine come buonsenso, che è un po' la ricerca che ho fatto, su cui ho approfondito, rispetto proprio all'idea che il buonsenso poi in realtà risieda in ognuno di noi e che qualsiasi approccio che noi vogliamo fare a livello educativo debba partire da quello. Ecco, una cosa che è molto importante e che non ho ancora detto è che la Montessori per concepire il suo metodo parte dall'osservazione del bambino, quindi non è che a un certo punto si sveglia di notte e dice ho trovato, fa delle osservazioni, fa delle deduzioni, le prova e poi verifica se quello che ha pensato è realmente efficace o meno. Quindi questa è la premessa doverosa e vediamo come in realtà alcuni elementi del metodo, secondo me, siano molto simili a quello che fa un artigiano poi. E affrontiamo il metodo seguendo un manuale di un costruttore di stelle di paglia. Questo è un manuale del 68 che spiega come si costruiscono delle stelle di paglia. Allora dice, solo quando sarete capaci di costruire una stella semplice, che appaia elegante, netta, ben fatta, dovrete affrontare stelle più complesse. Rammentate sempre che un atteggiamento non frettoloso e una mano ferma sono il requisito preliminare per il successo del vostro lavoro. Quindi ci sono già alcuni elementi che possiamo riscontrare anche nel metodo Montessori, ma in realtà in tanti di quegli esempi che abbiamo visto anche nei giorni precedenti, rispetto a partire dal semplice per arrivare al complesso, da costruire tempi più ampli e spazi più ampli dove lavorare, dove favorire il tempo di ciascuno e dove il successo sta proprio anche nella tranquillità del lavoro, nella competenza del lavoro, nella padronanza del lavoro. Allora vediamo che l'ordine proprio del bravo artigiano si rispecchia nel suo manufatto. L'ordine interno, psichico, prodotto dal flusso, che vedremo tra poco, dal flusso di concentrazione, dato dal lavoro appagante e costruttivo, è fondamentale nella creazione di un ordine esterno che si rispecchia nei manufatti prodotti. Cioè, se noi partiamo dall'idea che è il prodotto che ci interessa, e quindi ci mettiamo a produrre in maniera frenetica, saltiamo una serie di prerequisiti che anche a livello produttivo, artigianale, adesso stiamo parlando, sono evidenti. Cioè, un ordine interno, psichico, un atteggiamento positivo di rilassamento, di concentrazione, di precisione, è innanzitutto appagante e costruttivo, e si rispecchia poi anche nel prodotto. Quindi il processo si rispecchia poi, infine, anche in quello che si fa. La reiterazione, ogni progresso, parte dallo studio di un modello esistente da cui imparare la struttura e il funzionamento, per arrivare infine a comprenderne la regola sottesa. Nel metodo Montessori, il modello d'analisi è nel materiale, pensato proprio per sviluppare le funzionalità psicomotorie e cognitive. Cioè, reiterare e comprendere, nella reiterazione, il funzionamento di quella struttura, significa proprio incamerare anche delle formule che sono sottese nel funzionamento di quell'oggetto. Cioè, è quello che abbiamo chiamato astrazione incarnata, cioè materializzata, per mettere in evidenza, in una struttura, in un oggetto, una formula, una astrazione, che viene imparata semplicemente facendo. E questo vale sia a livello psicomotorio, quindi nelle funzionalità del nostro corpo, che a livello cognitivo. E come abbiamo detto, in realtà le cose poi non sono così scollegate. La ripetizione dell'esercizio è determinante per diventare pratici e sicuri in un lavoro. Nel metodo Montessori il bambino può sperimentare il materiale preparato nell'ambiente tutte le volte che vuole per il tempo che desidera. La routine sollecita infatti l'attenzione e la creazione di un proprio ritmo interno. Queste sono cose che abbiamo visto, quanto in realtà la ripetizione, soprattutto nel bambino, non sia uno strumento di noia, se fa parte della scelta, cioè se è il bambino che decide continuamente di ripetere fin tanto che non ha assorbito il motivo anche per cui si sta provando. La pazienza e l'umiltà, ecco questi sono due termini che si introducono oggi, che però sono fondamentali, sono doti e richieste per poter avere successo nel lavoro di artigiano. Cioè la pazienza che sta nell'accettare innanzitutto l'errore e ripartire è anche l'umiltà di accettare l'errore. Ma sono anche caratteristiche che la maestra o il maestro Montessori dimostra quotidianamente a scuola, diventando un modello per i bambini. Abbiamo detto l'esempio, un esempio che non è soltanto verbale, ma anche e soprattutto un esempio, un modello di comportamento, è fondamentale. E quindi queste sono due doti, assieme a quello che abbiamo detto, l'attenzione amorevole, che sono importanti. La pazienza e l'umiltà possono essere dunque assorbite nei comportamenti che la maestra rivela nell'ambiente. E sono atteggiamenti che non vanno dispersi nella routine dei giorni del lavoro, ma vanno accresciuti. L'evoluzione attraverso variazioni, quindi il crescere, il diventare sempre più complesso, partendo da una forma semplice, poi cominciando a variare, variare, variare. Abbiamo visto che un materiale ha in sé anche una serie di variazioni che man mano vengono introdotte per renderlo sempre più attraente e più complesso. Quindi l'evoluzione attraverso variazioni a partire da modelli più semplici, già acquisiti. Si parte da una base, tu hai compreso un funzionamento, bene, adesso aggiungiamo una sfida in più. Fa parte di quel concetto di avventura di cui abbiamo parlato, credo, ieri. Il progredire nella conoscenza del mondo avviene attraverso materiali sempre più complessi e studiati appositamente per lo stadio di sviluppo specifico del bambino. Chiaramente Pitagora o il cubo del trinomio verranno introdotti in un certo periodo. Magari prima partiamo da formule un po' più semplici e più importanti per comprendere poi cose un po' più complesse. Ordine ed equilibrio. Pedagogicamente il lavoro della scuola è di organizzare il lavoro del bambino. Allora, come rifaccio la solita premessa che avevo fatto l'altro giorno, in questo caso stiamo parlando, volendo, di una... di uno spazio formale. Quindi... dice organizzare il lavoro del bambino significa proprio fare design in questo caso, cioè se l'ambiente non è preparato c'è bisogno di una persona estremamente carismatica in grado di attirare su di sé tutta l'attenzione perché se l'ambiente non è attrattivo non è stato preparato in maniera attrattiva l'elemento attrattivo sarà la figura umana soltanto e quindi avrete tante persone che continueranno a richiedere stimoli e attenzioni invece di indagare altre cose. L'organizzazione e l'offerta del lavoro al bambino è il nostro compito, è l'organizzazione del lavoro che guida a stabilire l'ordine mentale nel bambino. Quindi sempre sull'interesse e l'attenzione che deve esserci nell'ambiente e questo per aiutare poi il lavoro di chi fa educazione non per toglierne il prestigio, il valore ma per accrescerlo. Per Dio il ordine è un processo attivo in cui l'uomo si trova in continua tensione volendo inglobare un ordine che è a lui esterno. Tale fermento psichico converte l'emozione in un interesse che ricade direttamente sugli oggetti e sull'ambiente circostante. L'uomo fa un'esperienza viva della natura e dell'ambiente attraversando cicli di energia frenate, rilassate, sopite, concentrate. Una serie di passaggi che prevedono comunque sempre un'interazione con l'esterno e che sono determinanti anche rispetto all'energia delle persone. Quindi cicli di energia frenate, rilassate, sopite, concentrate. Queste cose si modificano nel corso della giornata e nel corso della vita anche. Allora, qui volevo... Non sono moltissimo interessato al volume ma più che altro a... cioè a quello che dicono queste persone ma a quello che vedrete dopo. è veramente open alla possibilità. La loro mente è open a mille di connectionsi. È interessante note che ci sono molti di dendrite che il figlio riceve quando è nato. A dendrite è una connection in il cervello che la synapse va through e che ha l'elettrico impulso. Si è nato con mille di dendrite, ma quando si cresano, sono sifonato. Si chiamate, si chiamate, si chiamate. Quindi, la più che si chiamate, la più che si chiamate. Quindi, i primi anni di vita sono molto importante per la fondazione del genere. del learner that child is going to be and ultimately the kind of adult so those first years are crucial are they going to be able to be independent will they be dependent on an adult will they feel good about themselves can they can they quiet themselves can they meet their own needs those are the things that are so important that are really done in those first years of life information from objects travel through the hands and fingers to the brain dr. Montessori demonstrated that when infants felt and held things with their hands the information transmitted to their brain set in motion a whole series of coordinated events this learning process is deeply satisfying to infants remember that each object in the prepared environment is a potential learning tool not just a toy or a diversion objects offered need to correlate with infant sensitive periods supporting repeated sustained explorations of these objects enables infants to build concentration notice that the object permanence box matched with nine-and-a-half month old Bailey captivates her and builds her ability to concentrate as well as her eye hand coordination activities should encourage repetition allow for some struggle and build an appropriate skill many of these activities can be homemade when infants show little interest in an activity the task is generally either too challenging or too easy remember objects made of natural materials or materials that mimic the natural offer the richest opportunities for touch these stimulate finger-based exploration and hand-to-brain connection objects that are multi-dimensional will sustain repeated exploration and encourage learning also building concentration when considering toys it is good to choose some objects that display how their sound is made such as rattles that show their beads or have bells on the outside this is better than having all the sound making elements hidden inside the object these transparent details build a baby's curiosity and understanding of how the world works considerazioni mi interessava soprattutto il primo bambino in questo momento e ve l'ho fatto vedere sempre nell'idea che se cominciamo a guardare anche come avviene lo sviluppo ci aiuta poi per per lavorare in ogni caso anche con quelli più grandi poi vedremo quelli più grandi c'è sempre bisogno del del gelatino credo quello che si vede che lei o lui non lo so ripete sempre sto movimento col buco io direi quello anche senza che li dai le cose comunque con questo senso con questo scopo di farli ripetere stimolo motorico da 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 se lo trovano se tu li guardi li metti fuori nel giardino dove vuoi lo fanno da solo per esempio quello i bambino ieri che con la pinza metteva le e le paline quel stimolo di traversare da un contenitore a un altro lo fanno tu loro si cercano le pietre e i buchi le forme e sperimentano con le forme e un una necessità che c'è il bambino da solo esattamente noi segua seguiamo possiamo seguire quei bisogni quello che come stimolo ma alla fine devi solo seguire guardi che fanno loro la montessori lo chiama maestro interiore cioè quel maestro che guida il bambino a sviluppare le sue competenze con quello che trova e quindi in quel momento fai travasi fa cerca di sviluppare le sue competenze in quel momento altre cose che vi hanno un po colpito in questa osservazione prendiamola come osservazione non avendo in questo momento bambini in aula li prendiamo sì prima della fase sempre qui scusami c'è prima una fase esplorativa in cui lui prende la cassettina di legno la rigira lui insomma il bambino e poi dopo invece trova una via quella di rimettere sempre la pallina nel buco quindi inizia la ripetitività dell'azione inizia sposta nelle mani cerca il coordinamento a col manuale cioè a un certo punto decide come mettere la cassetta nello spazio inizia prende in considerazione anche la pallina inizia un'attività con quell'oggetto concentrata dietro io ho notato che comunque ha sperimentato prima un materiale poi l'altro perché comunque sono due materiali separati in questo caso e poi ha trovato un tramite per poterli utilizzare contemporaneamente insieme li ha associati però sì senza la sperimentazione prima di uno e poi dell'altro si si l'ha rivoltato poi la pallina è andata a prenderla poi ha visto che c'era il buco ok procedo e parliamo della concentrazione allora ehm miali ciccenta miali e lo pronuncerò solo adesso e mai più per evidenti motivi di complessità studia a partire da ehm l'esperienza di scienziati e creativi quell'atteggiamento ehm che produce benessere e che però mhm viene definito anche come estasi e ehm lo chiama flow ehm il flusso e dice il flusso è lo stato psicologico di massima positività e gratificazione che si può percepire svolgendo una determinata attività e corrisponde alla completa immersione nel compito quindi benessere una situazione di benessere positività e gratificazione nel fare nello svolgere una determinata attività e immersione in quell'attività quindi da proprio l'idea del tuffo in acqua e completa immersione e isolamento rispetto a tutta una serie di cose che succedono ehm nell'intorno il bambino finisce per immergersi nel suo esercizio con tale intensità d'attenzione che non si accorge più delle cose circostanti e continua a lavorare ripetendo l'esercizio uniformemente decine e decine di volte consecutive questo è il fenomeno della concentrazione della ripetizione dell'esercizio a cui è collegato lo sviluppo interiore ecco questa immersione la troviamo non soltanto questa concentrazione la troviamo non soltanto innanzitutto l'abbiamo provata tutti immagino mi auguro gratificazione benessere è stato immersivo vi auguro di averla di averlo provato ma credo che sia necessario e quindi sappiamo già di cosa stiamo parlando ma non è sol quindi non è soltanto prerogativa di scienziati o di persone creative ma è una prerogativa umana a partire anche dai bambini il bambino al lavoro non è un piccolo adulto al lavoro qui vediamo delle differenze di cui ho accennato due giorni fa la modalità di azione ma soprattutto l'obiettivo del suo svolgimento sono molto differenti stiamo parlando di lavoro cioè di pratica quando un bambino lavora non lo fa per raggiungere uno scopo esteriore ma per il puro piacere di lavorare alla creazione di sé della sua psiche del suo corpo quindi il primo obiettivo è anche una delle differenze poi qualcuno mantiene anche questo obiettivo nel lavoro però non è così scontato è che l'obiettivo e lo scopo non sono esteriori ma sono interiori cioè la crescita e la gratificazione la costruzione di sé agisce attraverso la ripetizione più e più volte di un esercizio la fine di tale attività non è dettata da motivazioni esterne la campanella la sirena della fine dell'ora quello che volete il timbro ma interne proprio della sua persona cioè finisce di fare quell'attività quando decide lui non sarà neanche la stanchezza a sospendere il suo agire in quanto è proprio al termine del lavoro che il bambino si ritrova pieno di energia e rafforzato cioè in realtà quell'attività siccome è appagante e costruttiva produce benessere quindi alla fine dell'attività vedrete che sarà più carico come una pila di energia rispetto a invece il nostro sistema di lavoro per cui alla fine di un'attività siamo esausti come le pile sempre la legge del mino sforzo economia di tempo ed energia associata al massimo risultato è proprio del lavoro dell'adulto cioè meno faccio e più ottengo una cosa grande è una cosa specifica dell'adulto del lavoro produttivo contestualizzato all'interno dell'ambiente sociale e supernaturale supernaturale è l'ambiente costruito dall'uomo lo chiama in questa maniera che l'adulto sia costruito ma non fa parte delle caratteristiche del lavoro del bambino in quale invece impiega grandi quantità di energie senza sofferenza e sacrificio ma con naturale distintiva dedizione cioè se una cosa interessa la fa ed è carico di energia in quel momento una volta dopo aver contato sedici esercizi di una piscina di quattro anni feci cantare un inno alla scolaresca per distrarre l'attenzione della piscina ma essa continuò imperturbata sfilare mescolare e rimettere a posto i cilindri questa è la citazione di cui vi parlavo di arvin gupta cioè ne parla la montessori ma la riprende anche arvin gupta rispetto a uno dei suoi lavori quanti gusti e 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 ci spiega il perché siamo affaticati quando finiamo un lavoro è che quel rapporto per cui eh la la fine dell'attività è dettata da motivazioni esterne sono della campanella dobbiamo produrre delle cose e quella produzione esterna non è la costruzione individuale eh quindi sì sono assolutamente d'accordo ciò nonostante dico che spesso e frequentemente questa è la realtà e ci spiega molto bene il passaggio no sono d'accordo però quello che dice in senso un per esempio un musicista secondo te lavora o non lavora e lavoro assolutamente sì no come dipende quale quale cosa infatti definisci come lavoro se andare in fabbrica a fare una cosa che a te non ti dà soddisfazione non ti riempie di no a questo creato certamente frustrazioni ti porta invece non per forza il lavoro deve essere così sì infatti ho fatto una piccola precisazione forse devo farla più grande che spesso ho detto dovrebbe essere un po' più frequenti il trovare il piacere nel proprio lavoro e continuare a a sì 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 ecco uno allora in pratica in questo periodo sto leggendo un libro che si chiama la via dell'artista di giulia cameron ed è un libro diciamo conosciutissimo in america tant'è che molti anche attori in italia ma anche altri che lavorano in diversi settori volevano proprio una copia in quanto diciamo che ci sono due cose molto particolari ci sono le pagine del mattino è un libro con tanti esercizi molto creativo le pagine del mattino consistono diciamo nella stesura no di tre fogli appena alzati la mattina è quasi un flusso di coscienza cioè quello che ti viene di scrivere tu lo butti giù e diciamo poi tieni per un certo periodo che può essere di sei otto mesi nascoste queste pagine e poi una volta la settimana c'è l'appuntamento con l'artista ossia sono due ore dedicate diciamo allo svago creativo quindi qualsiasi attività che possa essere creativa viene presa in considerazione ora mi è venuto in mente diciamo un riferimento con questi slide perché spesso dice proprio l'autrice non ascoltiamo il bambino che è in noi e quindi ci porta anche diciamo a svolgere il lavoro con maggior fatica sacrificio e il fatto invece di impiegare le stesse quantità di energia però senza sentire magari la sofferenza il peso mi ha fatto pensare a questo anche il flusso di prima lei parla di elettricità spirituale è stata bella diciamo la coincidenza anche perché poi ho associato forse oggi non sarei qui se non avessi letto anche quel libro secondo me quindi c'è una concatenazione grazie e costruisce un diagramma che semplifica un po' e però ci spiega a grandi linee dove si colloca questo atteggiamento di concentrazione di attenzione rispetto al flusso e lo fa proprio esaminando ad esempio il lavoro come dicevo prima di scienziati o creativi quindi musicisti persone che raccontano questo stadio di benessere nel loro lavoro e lo lo colloca qui no vedete tra tra la sfida e l'abilità cioè tra la sfida eh di cui parlavamo l'altro giorno che viene posta eh in quell'attività e la consapevolezza di avere le abilità per poter affrontare quella sfida vediamo che il flusso sta tra le citazione e il controllo quindi tra le citazione della sfida la capacità e il controllo per svolgere quella sfida nel modo migliore la capacità di controllo rispetto all'eccitazione nel momento in cui una delle due prende il sopravvento ci si allontana sempre di più da questo stadio di concentrazione di benessere eh che è il flusso quindi se l'eccitazione prende il sopravvento può essere che si finisce nell'ansia la famosa ansia da prestazione eh o addirittura nella paura non sono in grado perché ci si allontana da la consapevolezza delle proprie abilità così come un eccesso di controllo produce relax o addirittura noia nella ripetizione perché ci viene a noia talmente siamo capaci e abbiamo ripetuto talmente tante volte quell'esercizio che a un certo punto ci viene a noia o addirittura sfocia nell'apatia cioè calma piatta totale proprio non c'è più eh un movimento interno che ci ci muove e nelle interviste che fa eh Miali lo chiamerò gentilmente per nome eh trova che c'è un termine eh proprio utilizzato ad esempio dai musicisti per raccontare lo stato in cui durante una una composizione o una suonata eh trovano questo stato di isolamento di benessere di eh di piacere e guardatelo trovate anche adesso non continuerò a farvi vedere filmati ma lo trovate anche anche in questo caso trovate una sua conferenza a TED in cui racconta e eh e il titolo è proprio rispetto alla felicità e parte da questo diagramma in cui dimostra che un rapporto tra una serie di interviste in cui l'intervista è rispetto a uno sviluppo del benessere economico come si è modificato la percezione del benessere della felicità della persona e una volta raggiunto un benessere economico diciamo minimo il benessere quello della felicità il piacere continua a rimanere uguale pur aumentando di 10 20 100 il benessere economico quindi non c'è un rapporto tra le due cose mentre c'è un rapporto proprio su questo cioè su il piacere che ne deriva dal fare una cosa che ci interessa particolarmente ho preso proprio la citazione il dizionario per per spiegare che cosa è l'estasi è lo star fuori di sé ed è proprio questo cioè in questi momenti di concentrazione noi perdiamo il controllo esterno di quello che succede a livello di tempo quindi il tempo diventa relativo può essere passata un'ora e per noi è sembrato passare un minuto perdiamo il controllo anche fisiologico non dobbiamo più andare in bagno non abbiamo non sentiamo più fame sonno quindi anche il controllo fisiologico cambia a livello di soglie e anche il controllo ambientale del rumore di quello che sta succedendo viene allontanato quindi siamo in una situazione di concentrazione interiore e esteriore rispetto all'azione che stiamo svolgendo che sia danzare che sia dipingere che sia costruire un oggetto che sia comporre un poema qualunque cosa lavorare nell'orto siamo isolati però è un isolamento volontario direi non è l'isolamento della cella quindi non è un condizionamento esterno ma una volontà interna che ci guida e che produce questo benessere quindi guardiamo ancora questa poi facciamo un salto un'anima agile attiva agiva il loro trovandosi sempre più a suo agio ed emanava una calda luce spirituale che distoglieva i grovigli che opprimevano l'anima di quegli adulti che venivano in contatto con essa questa è la descrizione che la Montessori fa del contatto che c'è tra l'adulto e questa forza che è anche calmante in certi aspetti del bambino è anche una forza estremamente energica capace di di prendere il sopravvento sull'adulto però è molto interessante perché parla di un'anima agile attiva agiva il loro trovandosi sempre più a suo agio quindi nel momento in cui il bambino trova una condizione di agio di benessere emana una calda luce spirituale che distoglie i grovigli che opprimono l'anima di quegli adulti che venivano in contatto con essa quindi è una luce un calore un siamo in metafore ieri le abbiamo viste ma sono estremamente efficaci per raccontare quello che succede nel momento in cui questa situazione di benessere ha luogo e questa situazione di benessere produce dintorno altro benessere e quindi il ruolo dell'educatore è proprio quello di favorire la creazione di questa concentrazione di questo stato di benessere quindi la premessa era il ruolo dell'educatore potrebbe essere ripresa ancora una volta e utilizzata per questo Munari la prende per raccontare il metodo rispetto al design ma va benissimo anche nel design dell'educatore e vedrete che secondo me sono due cose molto simili cioè alla fine si fa design in tutti i casi ed è produzione senza propria azione azione senza imposizione di sé e sviluppo senza sopraffazione possono essere sopraffazione significa che ti ti vengo sopra ti copro con tutto il mio essere è ancora più forte perché è una sorta di annientamento e facciamo una un salto da un'altra parte adesso allora eravamo arrivati agli stili di apprendimento quindi abbiamo visto che c'è che ci sono una serie di stili che ognuno di noi possiede e che lo favoriscono nell'apprendimento li abbiamo divisi per macro aree quindi sognatori ponderatori decisori pragmatici e abbiamo visto come questi stili di apprendimento sono quelli che in qualche modo ci permettono di interessarci maggiormente di concentrarci maggiormente di trovare quella situazione di benessere appagante perché si crea anche a livello ambientale una situazione che ci favorisce quindi se siamo sognatori ci sarà un ambiente più favorevole un determinato ambiente sarà più favorevole se siamo pragmatici un altro ancora sarà l'ambiente che ci sarà più favorevole ponderatori decisori avranno anche loro un ambiente specifico abbiamo visto che ognuno di noi ha una tendenza e queste cose poi si si mescolano sono una combinazione è una chimica che prevede delle sostanze pure per creare un composto colb e la prima cosa che abbiamo visto due giorni fa era la scuola 1.0 adesso vediamo come ci siano degli stimoli che ci portano a pensare come l'interazione possa avvenire come anche a livello proprio di strutture si possa cominciare a ragionare concretamente nella realtà allora nel 50 la risposta a quanto buone sono la scuola della nazione era non molto ma sta migliorando quindi c'era un atteggiamento positivo e di fiducia oggi la risposta è non molto buona e sta peggiorando quindi c'è un atteggiamento di sfiducia verso il futuro e un atteggiamento diffuso su questo dobbiamo ragionare e cominciare a costruire alternative per cambiare questa tendenza in modo tale da creare una situazione invece di giusto di giusta soddisfazione nella nella risposta rispetto a scuola cioè un luogo che produce educazione o dove si fa educazione abbiamo visto in questi giorni che una prima risposta è che forse la scuola come unico luogo per l'educazione non è più sufficiente le risorse umane sono come le risorse naturali giacciono spesso in profondità devi andare a cercarle non si presentano in superficie bisogna creare le condizioni per permettere ad esse di manifestarsi e ci si può immaginare che è l'educazione il contesto dove ciò accade allora ieri abbiamo parlato proprio di dell'educazione come qualcosa che nasce dalla profondità e che trova la luce no adesso vediamo di chi è di Ken Robinson vado avanti dobbiamo passare da un modello industriale dell'educazione cioè un modello di produzione basato sulla linearità sul conformismo sulla segmentazione delle persone ad uno basato sui principi dell'agricoltura dobbiamo riconoscere che lo sviluppo dell'essere umano non è un processo meccanico bensì un processo organico e non si può predire il risultato finale dello sviluppo umano tutto quel che possiamo fare come un agricoltore è creare le condizioni entro le quali cominceranno a crescere e svilupparsi ieri c'era uscito questa idea del seme che ha bisogno di un ambiente per crescere ha bisogno che si creino le condizioni si aggiunge anche che noi quello che possiamo fare come agricoltore è creare le condizioni ma non possiamo predire lo sviluppo finale non possiamo dire che questo seme sarà esattamente questa pianta perché questa pianta sarà quel seme e avrà un suo sviluppo anche interno e quindi una volta create le condizioni starà anche alla pianta crescere seguendo il suo sviluppo in base al sole in base all'acqua in base al terreno in base alle radici insomma in base a il fatto che ci sono uccelli animali altri esseri umani quindi noi creiamo le condizioni e quello che possiamo fare è questo ma non non possiamo determinare in maniera definitiva che A sarà B o A messo in B diventerà C però c'è un salto molto interessante perché si passa da un modello industriale dell'educazione quindi quando abbiamo visto il primo giorno da dove veniamo veniamo proprio da lì da un modello industriale basato sulla linearità sulla necessità di tante persone che svolgono una serie di prodotti realizzano una serie di prodotti o fanno una serie di calcoli o fanno una serie di svolgono una serie di di carte a un atteggiamento diverso basato su l'idea organica dell'individuo e non meccanica e tutto sommato ritorno un po' sulla discussione di ieri a spingerci qui è anche la situazione per la quale non c'è neanche più bisogno se vediamo a livello lavorativo di avere tutta una serie di persone che svolgono lavori di calcolo stesura di 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 cose semplici meccaniche perché sempre più questi lavori vengono svolti da dalle macchine quindi bisogna anche a livello di di lavoro di calcio i calcoli ci sono i computer per i calcoli ci sono i computer per tutta una serie di pratiche che ormai sono state superate quindi anche se volessimo ragionarla in termini di economia o di di produzione del lavoro non c'è più bisogno di quel sistema la crisi mondiale è molto complessa un fronte riguarda le risorse naturali del pianeta ma uno altrettanto grave va affrontato con la stessa urgenza parliamo dello spreco delle risorse umane no questo è interessante come noi parliamo sempre dello spreco delle risorse naturali cioè del consumo delle risorse naturali non consideriamo lo spreco delle risorse umane che continuamente avviene dobbiamo imparare a preservare e valorizzare questo potenziale quindi le persone sono un grande potenziale i bambini sono un grande potenziale dicevamo ieri padri della sono padri e madri della della civiltà che verrà dobbiamo imparare a preservare e valorizzare questo potenziale questa energia rinnovabile l'essere umano è energia rinnovabile già quindi cominciare a considerarlo come energia rinnovabile fortunatamente rinnovabile i dogmi del tranquillo passato sono inadeguati al burrascoso presente la situazione è irta di difficoltà e dobbiamo essere all'altezza con la situazione poiché il caso è nuovo dobbiamo pensare in modo nuovo ed agire in modo nuovo dobbiamo emancipare noi stessi e così salveremo il nostro paese quindi questo era Lincoln prima di Spielberg è però interessante al di là della considerazione politica del tempo che era altro ma il principio di emancipare noi stessi per trovare soluzioni più grandi cioè innanzitutto partiamo sempre da un concetto di umanità di piccolo per guardare le situazioni poi più grandi emanciparsi significa che ci sono delle idee alle quali siamo assoggettati che semplicemente diamo per scontate come ordine naturale delle cose e molte delle nostre idee sono state formate non per far fronte alle circostanze di questo secolo di questo decennio di quest'anno o di questi mesi ma per far fronte alle circostanze dei secoli precedenti quindi portiamo avanti delle idee che in realtà sono risposte a esigenze di secoli precedenti neanche decenni o anni secoli le nostre menti sono ancora ipnotizzate da esse siamo cresciuti con queste idee e le diamo per scontate dobbiamo liberare noi stessi da alcune di queste idee questo è più facile a dirsi che a farsi è molto difficile rendersi conto di ciò che diamo per scontato la ragione è appunto che lo diamo per scontato una delle cose più difficili è proprio cambiare idea su tutto quello che diamo per scontato perché lo diamo per scontato quindi andare a mettere in discussione ad esempio il sistema scolastico è molto difficile perché significa dire anche per chi in qualche modo l'ha portato avanti significa dire ma forse ho fatto degli errori ammettere l'errore e se questa cosa è un problema per la società ammettere gli errori lo diventa anche per per la persona e quindi sarà sempre più difficile ammettere l'errore in un contesto sociale giudicante costruito in un ambiente giudicante che non permette l'errore le comunità umane si reggono sulla diversità dei talenti non su una singola concezione di abilità quindi ancora una volta abbiamo parlato di costruire ambienti di dare la possibilità di crescere alle diverse potenzialità di rispettare i tempi rispettare anche le indoli e costruire possibilmente dove riusciamo con i nostri limiti chiaramente anche personali gli agganci per i vari interessi e stili di apprendimento proprio perché però la diversificazione dei talenti parliamo di talenti come delle abilità delle indoli che poi ognuno sprigiona è lo strumento che permette una costruzione complessa di questo organismo più grande questo è sono una serie di di idee prese da Ken Robinson che è una figura riconosciuta a livello internazionale per lo sviluppo di formazione creatività e innovazione uno dei relatori principali del mondo con un profondo impatto sul pubblico anche questo lo trovate su TED però dice delle cose che sono estremamente interessanti che secondo me possiamo non ve lo faccio vedere poi se volete ve lo guardate a casa cominciamo possono essere implementate o integrate da uno studio che nel 2010 fa Liz Bader che trovate tra l'altro scaricabile su internet learning from streams e dice Charles Lee Bader calcola che entro i prossimi 50 anni il mondo occidentale vivrà la più grande crisi dei sistemi educativi della sua storia principalmente perché non si riesce a raggiungere e motivare con successo la maggior parte della popolazione dimostrando che la mancanza di risultati bassi aspirazioni culturali disinvestimento economico nei processi educativi porteranno ad una sempre maggiore resistenza alle proposte formative formali e tradizionali questo l'abbiamo già detto e per farlo però va a cercare i nuovi semi o i semi di altre possibili formule educative nelle periferie quelle che sono considerate le periferie dell'educazione dove la struttura è meno forte e quindi è più possibile sperimentare e un po' in realtà di queste periferie le abbiamo viste anche nei giorni scorsi e costruisce sempre un prospetto abbiamo detto che abbiamo bisogno di ordinare le cose per comprenderle meglio e una volta che sono ordinate voi potete anche disordinarle ma è per comprendere in questo momento tuttavia già oggi in tutto il mondo si assiste alla genesi di quattro strategie di successo che se accolte diffuse permetteranno ai sistemi educativi di rinascere e portare nuovo benessere alle comunità divide in apprendimento formale e apprendimento informale innovazione di mantenimento che significa forme o progetti che in qualche modo si affiancano all'esistente e lo migliorano con innovazione dirempente cioè cose che non esistono e che producono una visione altra di alterità rispetto all'esistente allora una delle prime strategie è quella più facile oddio più facile è una parola grande più accettabile che è migliorare l'esistente quindi migliorare le scuole attraverso servizi insegnanti e dirigenti la prima prevede l'implementazione dei sistemi scolastici dei sistemi scolastici tradizionali ridefinendo i criteri di selezione e formazione continua del personale attraendo persone degne e illuminate motivate a lavorare per il progresso sociale e umano dei membri della propria comunità in ambienti scolastici ben provvisti di strumenti e materiali educativi però migliorare la scuola non sarà sufficiente a risolvere la richiesta di conoscenze istruzione apprendimento della società in cui viviamo anche perché questo sistema questo della scuola strutturata non è diffuso è diffuso in certe parti del mondo in altre no se vediamo a livello in questo momento globale e in ogni caso prevede tutta una serie di azioni che devono essere messe in campo quindi sia a livello di selezione delle docenze selezione del personale sia a livello di ambienti scolastici quindi questi sono i due temi su cui sentiamo il dibattito quindi per questo che dico è tra virgolette il più semplice nel senso che è più accettabile a livello di dibattito se ne può parlare reinventare scuole per un'educazione più adeguata alle domande del nostro tempo quindi migliorare era il primo una seconda strategia cercherà di reinventare la scuola insegnando vecchie e nuove competenze in modo nuovo e stimolante in contesti differenti da quelli a cui siamo abituati negli Stati Uniti in Brasile in Svezia molte scuole usano strumenti e metodi che permettono di rendere personalizzato collaborativo creativo centrato sul problem solving l'apprendimento quindi questa è una prima ipotesi quindi la reinvenzione di un sistema scolastico in cui quindi c'è comunque una scuola si reinventa un sistema scolastico cioè non è quello che noi abbiamo vissuto ma è comunque un sistema formale e torniamo sull'innovazione di mantenimento però scaliamo sull'apprendimento informale adesso integrare la scuola con il lavoro di famiglia e comunità quindi innovazione di mantenimento e apprendimento informale che chiama in causa in sostanza la comunità la società per cambiare in meglio la situazione della scuola dovremo anche supportare le famiglie e i gruppi che si occupano dei bambini delle bambine delle giovani generazioni diffondendo una cultura dell'apprendimento e della gioia di imparare insieme alla consapevolezza che ognuno di noi si può realizzare attraverso il percorso di studi mettendosi al servizio della propria comunità le persone sono pronte a crescere ma bisognerà supportarle con forza e costanza quindi una diffusione della consapevolezza educativa a livello sociale sempre più grande che porta a non delegare soltanto gli organi predisposti all'apprendimento formale per l'apprendimento ma che comincia a ragionare e a mettere in discussione gli organi formali proprio perché c'è una formazione anche dei genitori delle persone dei nonni degli zii dei fratelli tutti nella loro funzione di comunità prendono in carico e seguono l'educazione trasformare quindi arriviamo apprendimento informale e innovazione dirompente quindi trasformare se sapremo svolgere con efficacia queste tre strategie che abbiamo appena visto allora potremo accedere alla quarta trasformare il concetto stesso di scuola e insieme quelli di luoghi tempi e modi dell'apprendimento la scuola sarà una questione vitale attraente per ognuna produttiva e rilevante di forte impatto sulla vita quotidiana basata su rapporti tra i pari piuttosto che su rapporti asimmetrici e formali in cui gli spazi per apprendere colonizzano tutta la città e anche la campagna e i luoghi produttivi uscendo dalle mura della scuola attuale inizieremo a imparare dalle sfide dei problemi della vita e smetteremo di seguire lezioni curricolari perché un governante ha stabilito il programma della nostra classe valuteremo il successo di questo nuovo corso educativo dal fatto che la conoscenza che avremo acquisito ci migliorerà la vita perché ci servirà per progredire come esseri umani aiutando gli altri e la nostra comunità nel compito di realizzare le proprie potenzialità umane e non per ottenere un buon voto in un esame o un titolo di studio per andare a lavorare come dirigente per una multinazionale quindi è la costruzione sociale politica di un'altra formula dell'educazione che colonizza o potremmo dire invece che colonizzare che pervade tutta la realtà non soltanto la città ma anche la campagna i luoghi di produzione tutti sono in qualche modo agenti di questo cambiamento perché sono agenti di questo cambiamento perché questo è uno dei cambiamenti indispensabili in ogni caso per trovare nuove formule anche di vita come? allora queste sono alcune delle 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 diciamo delle azioni che Robinson mette in evidenza ma chiaramente qui poi si apre il dibattito nel senso che questo è un seme ma ognuno poi va e prende e a seconda anche dei propri stili delle delle proprie condizioni ambiente formale informale dirompente lo prende per quello che è comunque attirare e non spingere cioè non spingere all'apprendimento ma attirare verso un apprendimento imparare attraverso il fare imparare attraverso una pratica un processo imparare come gioco apprendimento come problem solving cioè una sfida e imparo da questa sfida di cui ho le competenze per in qualche modo però per mettermi nelle condizioni di concentrazione che abbiamo visto prima molti posti per l'apprendimento anzi direi tutti i posti per l'apprendimento cioè non soltanto una scuola ma anche SEPIC ad esempio ma anche la campagna ma anche uno spazio di lavoro un ristorante tutto diventa luogo di apprendimento imparare senza insegnanti o imparare dai pari possibilità di imparare anche senza insegnanti oppure imparare dai pari apprendimento come produzione che significa che l'apprendimento non avviene più soltanto come formula stratta che ci guida fino ai 18 20 30 anni ma che entra nel lavoro della vita cioè vediamo il risultato e il fine dell'apprendimento se spiego la meccanica la meccanica di qualcosa poi faccio quella meccanica e capisco perché ho imparato quell'elemento di meccanica quell'elemento mi è utile allora vecchie e nuove tecnologie al servizio dell'apprendimento cioè integrazione di tutte le tecnologie ecco la speranza è che a un certo punto questa sia una situazione di apprendimento dove ci sia lo scambio cioè si entri nei laboratori artigianali si entri nella fase di produzione e si produca si scopra il lavoro dell'artigiano e non è un caso che ho citato prima per parlare del Montessorio ho parlato della tecnica artigiana perché è una tecnica valida sempre valida e comprendere i meccanismi la costruzione del vivere passa anche da qui la nostra speranza per il futuro è quella di adottare una nuova idea di ecologia umana nella quale incominciare a ricostruire la nostra concezione della ricchezza e delle capacità umane accennavo prima il fatto che la felicità il concetto di felicità non va di pari passo al concetto di PIL quindi per quanto il PIL cresca a un certo punto nel momento in cui si supera una fascia diciamo di di sussistenza perché quella è comunque discriminante se siamo sotto una fascia di non sussistenza è molto più difficile però data una fascia di sussistenza non è il nostro indicatore il nostro sistema educativo ha sfruttato le nostre teste come noi abbiamo sfruttato la terra per strapparle una particolare risorsa questo è estremamente potente ma efficace nello spiegare l'atteggiamento come noi abbiamo visto solo una funzione nella terra o nelle risorse quindi abbiamo richiesto solo quella funzione continuamente esaurendola così anche abbiamo fatto quell'altro tipo di risorsa le risorse umane chiedendo sempre è solo un tipo di risorsa o concentrandoci su un tipo di risorsa e per il futuro non ci servirà quella risorsa cioè noi abbiamo costruito un sistema educativo che muove su certe leve e che peraltro essendo concepito nella rivoluzione industriale quindi nella creazione di grandi industrie di un mondo industriale oggi è fuori tempo è fuori luogo e quindi tra l'altro quella risorsa che stiamo richiedendo non ci servirà quindi vanno ripensati i principi fondamentali sui quali si educano i figli o educhiamo semplicemente le nuove generazioni ok facciamo la classica pausa di considerazioni su questo perché secondo me abbiamo messo un po' di carne al fuoco adesso abbiamo fatto una piccola accelerazione mattutina facciamola a gruppi come abbiamo fatto ieri soprattutto su questi ultimi aspetti sono interessato poi sugli altri magari ci prendiamo i nostri tempi ce li rivediamo con calma rispetto al Montessori concentrazione degli aspetti ma su questo più sociale e politico dell'organizzazione fa parte poi anche dell'idea di creare spazi di educazione altri e quindi credo interessi in ogni caso ciascuno di voi o siano uno dei motori se non il motore uno dei motori che vi ha interessati e vi ha spinti a ripensare o prendervi un momento per per seguire il corso quindi su quest'ultima parte considerazioni e riflessioni a gruppi come abbiamo fatto ieri per chi non c'era gruppi di quattro c'è la possibilità di muoversi e andare a ascoltare gli altri gruppi poi ci sarà una persona che farà una sorta di comunicazione di quello che si è detto nel gruppo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci chiedevamo come è possibile fare tutto questo, creare tutte queste possibilità. Ebbene, rivoluzione. Grazie a tutti. Tutto ciò li abbiamo già, nel senso che abbiamo delle scuole, abbiamo la tecnologia, abbiamo tutti gli strumenti, le idee ci sono anche. Serve che cambi il modo di intendere l'educazione da parte degli insegnanti e dei dirigenti, ma anche delle famiglie. Quindi non si tratta di una cosa che riguarda solo ed esclusivamente la scuola, ma riguarda tutta la cultura. Quindi parlo di rivoluzione perché magari è un cambiamento profondo di quello che è il meccanismo tradizionale della scuola. E a conclusione di questo mio intervento cito un filosofo regista tuttofare italiano che si chiama Silvano Agosti ed è illuminato secondo me da questo punto di vista. Lui ha scritto un libro che si chiama Lettere dalla Chirghisia e tra le varie lettere l'ultima spiega quella che è l'idea della scuola che lui ha. Anche del lavoro però ci sono diverse cose che lui affronta e parla di questa idea di scuola che appunto riflette perfettamente sia un po' il percorso montessoriano del bambino che si va a cercare in una struttura organizzata dal punto di vista del design, si va a cercare le sue informazioni, ma appunto come dicevamo qui l'apprendimento non si centra solo ed esclusivamente in quello che il bambino impara a scuola ma in tutte le forme di vita, quindi anche come parlavamo noi del panettiere per esempio si può imparare come si fa il pane, si può imparare come si fa un vestito, cioè l'educazione non è più soltanto una lezione frontale con l'insegnante. La nostra riflessione partiva un po' dalle nostre esperienze personali, cioè in lavoro, in comunità e comunque anche in rapporto con le istituzioni. Ci eravamo fermati a riflettere sul fatto che non vedevamo tanto la scuola o non vogliamo vedere tanto la scuola come elemento distaccato rispetto alla comunità, cioè da una comunità, ma vediamo piuttosto una comunità che si autoeduca, una comunità autoeducante che porta poi un barlume di cambiamento anche a livello poi più istituzionale, cioè partire dal basso per arrivare all'alto. Si chiama laboratori dal basso. Eh certo, sì perché diciamo che la nostra riflessione era più una riflessione su quelli che erano i limiti poi di un lavoro più operativo sul territorio, quindi per esempio lavorare in una scuola che è già strutturata ed è difficile da cambiare almeno se non in tempi molto lunghi e quindi sarebbe più facile integrare quelli che sono i sistemi educativi utilizzati dalle istituzioni più comuni, cioè la scuola ma anche più ad ampio respiro il comune, cioè poi elementi più, voglio dire, più caratterizzanti della società rispetto a un'integrazione che può avvenire in tempi ovviamente più brevi, con i limiti e l'avventura che ci dicevamo, cioè quella sfida che ognuno di noi deve porsi per farlo, perché sarebbe inutile cambiare una famiglia non cambiando, non accendendo quella luce in quelle che sono per esempio le insegnanti, quindi anche una critica ad una formazione che poi rimane statica e non si differenzia nel tempo, cioè non continua e non si evolve. E quindi diciamo l'unica cosa che ci era venuta in mente era quella di creare, visto che questo cambiamento è difficile da attuare, dei luoghi alternativi di dove possa avvenire questa educazione, poi nelle differenti forme artistiche e non rispetto alle propensioni di ognuno. Mi intrometto solo un secondo dicendo questo, che questo che avete visto, questo powerpoint in questo momento rispetto a Chasley B, Derk & Robinson, l'ho utilizzato anche quando ho fatto formazione ad esempio per gli insegnanti al Castello di Masino, nel senso che a settembre abbiamo fatto un evento in cui si sarebbero dovuti presentare le attività e in realtà ho presentato questa cosa e non c'è un clima restio, perché gli insegnanti stessi sono consapevoli della necessità di cambiare questo sistema. Quindi abbiamo un vantaggio, senza generalizzare, ma abbiamo un vantaggio che c'è un clima favorevole anche da parte degli insegnanti, volendo, se si mostrano delle alternative, se si dice che altre cose stanno succedendo, delle altre realtà già sono in pratica, ci sono delle altre formule, delle altre forme che sono realtà, cioè non è che è fantasia, sono realtà. Se parliamo di realtà si capisce, ci capiamo e c'è possibilità di collaborare su questa prospettiva più ampia, quindi dove si può entrare nella scuola, si può affiancare la scuola, si può creare un'altra scuola, si può creare un altro spazio, si può fare laboratori dal basso, si può... Ma dove è questo? Era un corso... Eh, faccio la... sì, forse non l'avevo detto, però seguo la parte educativa per il Castello di Masino, che è un Benefai, e quindi era per presentare i percorsi dentro il castello, le attività di laboratorio che le scuole fanno. Abbiamo organizzato assieme a Castello di Rivoli, in quel caso c'era anche il Louvre, un percorso di formazione che si è mosso da Rivoli, poi è venuto a Masino, con gli insegnanti, c'era proprio un pullman itinerante che portava gli insegnanti, che dava degli stimoli, non solo vieni e compri ai nostri percorsi, perché non è soltanto questo. Cioè è sicuramente importante che gli insegnanti vadano a fare le gite, queste cose qua, ma fare in modo che ci sia un'integrazione, anche sui temi e sul concetto di educazione tra queste due realtà. Cioè non stiamo parlando soltanto di tu fai la tua e io faccio il mio, ma facciamo la stessa cosa, stiamo collaborando. Cioè gli insegnanti erano invitati, hanno aderito... e ho avuto proprio un riscontro estremamente positivo su questo, non è un arroccarsi su noi siamo gli insegnanti e voi siete altro, c'è una volontà. Perché ad esempio invece io ho avuto altre due esperienze che riguardano gli animali, quindi comunque si parlava sia di educazione ambientale legata alle tartarughe marine, sia proprio di animali come Michele, sa, proprio con Marchesini e compagnia bella, in cui le insegnanti sono state invitate proprio a partecipare a questa giornata, in cui si presentava, diciamo, alcuni progetti, ma non hanno proprio risposto. Adesso non entro nello specifico perché non lo conosco. Lì effettivamente, cioè, a premessa è che c'è un organismo importante come il FAI o come Rivoli o il fatto che c'era il Louvre, quindi si è creato un percorso estremamente attrattivo. Detto questo, bene che si facciano queste cose, qualunque modo, sempre bene fare. Eh sì, poi questa era un'osservazione che facevamo noi, sul fatto appunto di la nostra idea, di noi quattro diciamo che parlavamo, di creare delle alternative anche diverse alla scuola. Cioè ognuno di noi ha dei piccoli progetti che propongono delle cose da non fare a scuola, però poi riflettevamo proprio sulla difficoltà nell'attuare queste cose. Tu parlavi di rivoluzione, no? Allora, cioè, pensavamo ai due modi, cioè come può avvenire la trasformazione e il cambiamento o dall'alto, e quindi le istituzioni che a un certo punto cambiano tutto il sistema, la formazione degli insegnanti, i servizi e via dicendo, o come una rivoluzione dal basso, che però necessita di un'organizzazione collettiva, diciamo, non può avvenire da... Cioè normalmente, insomma, le rivoluzioni non riescono con tre o quattro rivoluzionari. E noi parlavamo anche del fatto che, della difficoltà di poter fornire queste alternative senza essere legati ai soldi, cioè diciamo, al bisogno poi economico di chi di noi si approccia a questo tipo di diversa formazione, che però non ha generalmente la disponibilità economica di dire, va bene, faccio un altro lavoro che mi impegna, diciamo, poco, e quindi poi il tempo di pensare, di studiare, di elaborare dei progetti e nello stesso tempo posso fornire un servizio che anche a nostro parere dovrebbe essere poi anche gratuito, ma non ho poi questa possibilità di farlo. Poi vabbè, diciamo, ci aveva colpito l'argomento di dare delle cose per scontato e che anche noi molto spesso, pensando di lavorare anche diversamente dalla classica scuola, invece ci siamo ritrovati in questa cosa, cioè riflettendo sulle nostre esperienze, di esserci ritrovate proprio a dare delle cose per scontato e poi aver capito che sbagliavamo anche noi lì, cioè ritrovate proprio nella pratica, nell'incontro col bambino, con la scuola. Parlavamo del senso dello spreco delle risorse umane, che è una condizione in cui, semmai, ci siamo trovate come esperienza di vita nel lavoro che abbiamo fatto e che questo spreco è perché l'energia psichica che noi mettiamo nelle cose che facciamo in realtà è bloccata, non ha uno stimolo a venire fuori e quindi c'era anche la riflessione su questo aspetto più psicologico. Io ho fatto il mio esempio che dopo aver ascoltato per due ore la lezione non mi sento assolutamente stanca, anzi, qualche modo voglia di riprendere appunto l'ascolto, proprio il desiderio di conoscere qualcosa che è totalmente diverso da quello che abbiamo imparato finora. Qui entra lo stile d'apprendimento perché qualcuno è stanco, lo so. Sei sicura che non vuoi farti sentire proprio? No vabbè, sostanzialmente anche noi abbiamo riflettuto molto sulle stesse tematiche di cui hanno discusso precedentemente tutti gli altri. Più che altro ci siamo fatti delle domande, delle domande come si può fare a innovare, a sovvertire. Ne abbiamo discusso anche con te, è già un buon inizio quello di creare un terreno fertile. Un terreno fertile che però all'inizio non penetra in quello che è l'istituzione formale, però va a riempire, insomma, ad arricchire le coscienze di chi sta nell'ambiente. Claudia diceva, io sono una mamma, faccio parte del comitato dei genitori, se un insegnante mi viene a dire, ci sono dei ragazzi un po' vivaci, non riesce a gestire la complessità di un agglomerato di ragazzi, non riesco a portare avanti il programma, il programma visto come il metro di misura, di performance di un insegnante. Vabbè, ma è una cosa consolidata, cioè, come dicevamo prima, un insegnante deve fare ciò che è un lavoratore, deve fare quello che gli dicono di fare i superiori, i superiori che hanno altri superiori, quindi un insegnante è il dirigente scolastico, il dirigente scolastico è il sovrintendente, il ministero, e cose così. Quindi, chi è che diceva? Dicevano, le rivoluzioni possono venire o dall'alto o dal basso, devono venire in entrambi i modi, però non tutto si può appoggiare sulle cose di contorno, come può essere un comitato dei genitori che crea un laboratorio più pratico, cosa che la scuola al momento sembra non curare, tipo un padre pasticcere che fa fare i pasticcini, ma un pasticcere può fare i laboratori di pasticcini, non è un educatore. Ti interrompo solo un secondo, pensate che bello sarebbe il giorno in cui a partecipare a questo incontro ci fosse un politico. Pensate che bello, però io credo che sia possibile, non è una sfida, è una cosa che è possibile, ed è l'obiettivo anche, cioè il momento in cui il politico non è visto come quello che ci risolverà la vita, ma come qualcuno che siede assieme a noi e si forma continuamente come noi. Questo è sicuramente una delle cose che mi piacerebbe vedere. Scusami. No, ma il tuo intervento ha molto senso, ce ne sono pochi di politici che già fanno, pochissimi, sono rari, però ci sono quelli che vivono la comunità, però sono comunque isolati, così come sono isolati, sono quegli insegnanti che vogliono introdurre qualche elemento di innovazione, andare a rompere un po' gli schemi, vengono isolati dai colleghi, ma perché? Cioè, interroghiamoci, noi tutti quanti, tutti gli esseri umani, hanno la tendenza ad essere abitudinari, ma perché l'abitudine porta a una standardizzazione, che porta a una sicurezza, a un comfort, no? Quindi, se un insegnante segue un programma, non è solo perché gli viene calato dall'alto, dal ministero, ma anche perché gli crea un senso di sicurezza, cioè, è più semplice affrontare, seguire un programma, piuttosto che gestire la complessità della realtà. Questo non è un criticare l'insegnante, perché qua, cioè, è una cosa di tutti gli esseri umani, però diciamoci anche che è un insegnante di quanto si può fare carico, visto che comunque la condizione lavorativa dell'insegnante è anche, diciamo, un po' penalizzata, molto penalizzata. Insomma, sono una serie di fattori. Secondo me, un'altra cosa estremamente interessante è che è difficile rendersi conto di ciò che diamo per scontato. Una cosa che mi fa piacere, invece, di questo, al di là che effettivamente, adesso ho fatto la battuta rispetto al politico, però, il fatto già che si sia organizzato a laboratori dal basso è un'azione politica. Se poi ci fosse anche la partecipazione sarebbe ancora più politica, ma già questa è un'azione politica. Detto questo, anche la questione di genere. Cioè, sono felice di vedere che non è soltanto, i principi dell'educazione non sono soltanto affidati al genere femminile. Nel senso che comincia, in qualche modo, a essere distribuita l'attenzione, a ritornare distribuita l'attenzione e non affidata soltanto a un genere. Anche questo è un punto che noi diamo per scontato e vi assicuro che è così, perché nei corsi, tendenzialmente, la presenza maschile è inesistente. Perché? Perché l'educazione è una prerogativa, perché l'educazione non è uno status. L'attività dell'educatore non è uno status. Eppure abbiamo visto che ci sono esempi maschili nel mondo dell'educazione. quindi non è una prerogativa. E anche questa è educazione e politica nello stesso tempo. Cioè, quindi ci sono delle azioni che si possono mettere in campo e che producono già solo una trasformazione. Quella rivoluzione è già solo questa. Il fatto che ci sia una presenza maschile oggi è rivoluzionaria. Molto più che l'altra. Perché significa ampliare gli ambiti. perché probabilmente siamo ancora bloccati su ambiti differenti. E se invece anche la popolazione maschile comincia a entrare nell'argomento dell'educazione e dire la sua e partecipare, significa che quell'argomento entra anche in altri ambiti. E allora entra magari là, in quei luoghi che sono più difficili da intaccare. Intaccare o pervadere, o mettere in discussione. In pratica noi abbiamo parlato di rivoluzione. E a me è venuto in mente Franco Battiato, che è un cantautore che stimo particolarmente. E lui diceva che le rivoluzioni sociali devono essere sempre precedute da una rivoluzione di pensiero. Quindi in questo senso dovrebbe proprio cambiare la mentalità anche in Italia. Perché sì, a volte ci sono delle grandi idee, però su queste non si investe molto. E quindi secondo me bisognerebbe auspicare una maggiore sinergia tra le istituzioni e le varie comunità. Perché sì, la società è importante, però a volte sono le piccole comunità che fanno la differenza. E in questo senso io noto che non c'è una particolare attenzione la maggior parte delle volte. Ci sono casi fortunati in cui magari le idee vengono prese in considerazione. Però il concetto anche abbastanza americano di start-up dovrebbe essere più assimilato in Italia. E io vedo che questa cosa spesso non si verifica proprio anche per l'abitudine. C'è un concetto strano che non aiuta anche e soprattutto i giovani secondo me in questo senso. Poi non lo so se è condizionato. Se avete fatto caso gli esempi italiani sono pochi ma non perché non ce ne siano. Perché l'idea che vorrei far passare è che stiamo ragionando di un discorso estremamente più esteso e su questo noi dobbiamo inserirci. Perché se partendo da un'idea di comunità possiamo inserirci però anche in un discorso più esteso. E dobbiamo inserirci in un discorso più esteso perché c'è la possibilità di farlo. E allora forse troviamo anche terreni più fertili. Cioè se non passiamo da una parte come un fiume passiamo da un'altra. Ok, se non ci sono altre cose facciamo la pausa e ci rivediamo tra poco. Grazie. Grazie. Grazie.